Un derby che valeva la conquista del campanile ma che anche ai fini della classifica rivestiva importanza notevole. Il Fontana Audax sovverte il pronostico e grazie alla rete del solito Zanolini conquista tre punti che valgono il sorpasso proprio ai danni dei cugini della Castellana. Al Soressi squadre bloccate in un primo tempo contraddistinto dalla tensione e dalla paura di perdere. Il primo brevido corre però lungo la schiena di Gagliardi che sembra comunque controllare con lo sguardo il diagonale mancino di Zanolini che sembra fare le prove in vista del gran finale. Il Fontana fa la partita ma manca la precisione. Latita la squadra di Lazzarini con bomber Zanaboni che fa scena muta in avanti anche grazie al gran lavoro di Arodotti che sarà tra i migliori in campo. Nella ripresa mister Stefanelli cambia. Dentro Zangrandi per Mazzini ma soprattutto a metà frazione è tempo di esordio per il nuovo arrivo Ani. Cent'anni sfiora la marcatura con una bella girata nel cuore dell'area ma al quattordicesimo si fa viva la Castellana con Arbit. I riflessi di Cavallaro sono al solito formidabili e lo 0-0 non si schioda. Il Fontana non si fa certo intimorire e ancora cent'anni ci prova con il mancino. Al trentatreesimo la svolta Zanaboni completa la sua domenica da dimenticare rimediando il secondo giallo di giornata lasciando i suoi in inferiorità numerica. Prende avvio lo show di Ani anche se i Granata appaiono in grado di reggere anche di fronte ai raid del giocatore africano. Fino all'ottantanovesimo quando l'assistenza per Zanolini buca la difesa e il cannoniere inquadra al centro soprattutto l'angolino lontano. È l'apoteosi in casa Fontana che per quattro mesi ottiene il titolo di regina di Castel San Giovanni.